Ben trovati lunedì 3 agosto 2020, nuova edizione del TG di Cilento Channel, apriamo con una notizia dal Cilento, le pale meccaniche portano alla luce i rifiuti tossici nel comune di Salento purtroppo, è l'inchiesta a firma del giornalista cilentano Vincenzo Rubano sul giornale Repubblica, ma vediamo subito il primo servizio di oggi. Le pale meccaniche scavano in località Piana del comune di Salento per portare alla luce i rifiuti tossici interrati negli anni 90 su alcuni terreni privati, lo riporta il giornale La Repubblica a firma del giornalista Vincenzo Rubano. L'ordine è partito direttamente dal procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania Antonio Ricci e del sostituto Vincenzo Palumbo, sottolinea Rubano. Sacchi di juta, bidoni di plastica, fanghi tossici, tutto sotterrato a più strati in piena zona protetta del Parco Nazionale del Cilento. Gli inquirenti sospettano che ci possa essere la mano della criminalità organizzata. La denuncia è partita da un cittadino, i camion arrivavano di notte, scaricavano e andavano via. Nessuno poteva mai immaginare che fossero carichi di rifiuti. Il dubbio mi è sorto solo da alcuni anni dopo aver notato un incremento dei casi di tumore. Inquirenti della procura di Vallo della Lucania stanno indagando sui rapporti tra imprenditori del posto e clan dell'agronucerino sarnese e gemoni sul territorio tra gli anni 80 e 90. La procura vallese mira a far luce sulla gestione del business dei rifiuti nei terreni località piana del comune di Salento, rifiuti che le pale meccaniche continuano a tirare fuori dal sottosuolo. Oltre 50.000 metri quadri di terreno sottoposto a sequestro in cui sarebbero stati nascosti rifiuti di ogni genere. Si tratta di fondi privati che negli anni 90 erano stati affittati ad imprenditori senza scrupolo, un business imperniato su rifiuti dannosi sia per l'ambiente sia per chi ne viene a contatto, ma che ha fatto risparmiare miliardi di vecchie lire a chi doveva smaltire gli scarti altrove. E dietro ad un affare così redditizio gli inquirenti sospettano che ci possa essere la mano della criminalità organizzata. Gli investigatori indagano a ritroso, continua Rubano, partendo dalla denuncia di un cittadino raccolto lo scorso anno dal capitano dei carabinieri Menato Malgeri. Ma c'è di più. Secondo altre segnalazioni, negli anni 80 i rifiuti sarebbero stati utilizzati anche per riempire alcuni tratti del tracciato della strada cilentana, cosa questa ancora da verificare, ma sulle iscrivanie del procuratore Antonio Ricci e del sostituto procuratore Vincenzo Palumbo, che coordinano le indagini, c'è anche il verbale di una vecchia audizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia del 17 settembre 1993, in cui l'allora presidente Luciano Violante interroga il collaboratore di giustizia Pasquale Galasso, uno tra i più noti capi della Camorra. Galasso ammise di aver percepito tangenti per la costruzione della diga lento, specificando che l'impresa Sorrentino S.P.A., in quel periodo si stava staccando dall'organizzazione di Cutolo per passare con il suo clan, e che la costruzione della diga lento è stato uno dei primi lavori in cui la Sorrentino ha fatto da tramite con il clan, per quanto riguarda le tangenti. Alla luce di questa confessione, secondo gli inquirenti, la criminalità napoletana potrebbe aver influenzato anche la costruzione della strada cilentana realizzata, non a caso, negli stessi anni della diga e nello stesso territorio occidentano, ma al momento si tratta solo di ipotesi, quel che è certo è l'aumento dei tumori in tutto il cilento. Cambiamo pagina, adesso parliamo di Covid-19 per quanto riguarda il cilento. Tutti negativi sono i tamponi effettuati su Agropoli, salgono a 23 i casi a Pisciotta, mentre 40 sono i positivi totali nel territorio del cilento. La città di Agropoli tira un sospiro di sollievo. Sono tutti negativi i tamponi analizzati venerdì scorso presso il laboratorio di Eboli, come annunciato dal sindaco Adamo Coppola. Circa 105 i tamponi effettuati in totale in settimana su tutti i cittadini posti in isolamento fiduciario dall'inizio delle verifiche da parte dei sanitari dell'Asla di Salerno dal primo contagio registrato in città. Al momento restano 6 le persone positive. Altri due casi invece positivi registrati nella giornata di sabato scorso nel comune di Pisciotta, che fa salire il numero dei contagiati a 23. A darne conferma alla nostra redazione è il COC di Pisciotta. Proprio nella giornata di sabato il primo cittadino, Ettore Liguori, aveva pubblicato su Facebook una nota stampa rivolta ai suoi concittadini e turisti. Carissimi concittadini, gentili ospiti, dopo le drammatiche giornate di questa primavera, il virus non è ancora scomparso e tutta l'Italia, anzi l'intero pianeta, deve tuttora fare i conti con lo stato di emergenza, anche se, almeno in Italia, non più drammatico come quello vissuto nei mesi scorsi. La chiusura totale e il responsabile impegno della nostra comunità avevano tenuto Pisciotta del tutto esente dal contagio. La riapertura, unita a qualche incauto comportamento, ha modificato questa realtà e abbiamo dovuto registrare anche nel nostro paese alcuni casi. Nessuno di questi casi si è mai verificato né a Pisciotta Capoluogo né a Rodio. Anche a Marina la situazione è pienamente sotto controllo, con l'isolamento delle persone coinvolte e di quelle con esse entrate in contatto. È stato inoltre eseguito uno screening di massa su tutti gli operatori delle strutture commerciali e portuali, con esito totalmente negativo. Pisciotta è sicuramente scrupolosamente controllata ed è perfettamente in grado di ospitare come sempre tutti quelli che vogliono godere del suo mare, dei suoi olivi, dei suoi borghi, delle sue accreditate strutture ricettive, delle sue case sul mare, in collina e nei borghi, dei suoi ristoranti di eccellenza, dei suoi bar, delle sue rinomate osterie e pizzerie, sottolinea il sindaco. Non c'è alcun motivo per rinunciare a tutto questo e intendo responsabilmente incoraggiare tutti quelli che amano Pisciotta a vedersene bene, rispettando le regole anche in quest'estate, come in tanti già stanno facendo. A Castellabate negativi tutti e 30 i tamponi effettuati. 23 di questi erano ristretti ad un unico nucleo familiare che aveva partecipato ad un pranzo battesimale ed erano venuti a contatto con un non residente asintomatico, risultato poi positivo al covid-19. Avevo espresso fin da subito le mie rassicurazioni sulla totale trasparenza e merito al caso, che è stato da subito circoscritto ed esaminato, ha dichiarato il sindaco Spinelli. Le voci hanno provocato grande agitazione e dobbiamo evitare sempre inutili allarmismi che risultano essere nocivi al nostro stesso territorio. Dobbiamo però continuare sulla stessa strada che stiamo percorrendo da marzo con il ligio rispetto delle regole e con senso di responsabilità di ognuno di noi nella gestione di un comune turistico che si appresta a vivere il periodo di maggior afflusso di persone. Revocata inoltre anche l'ordinanza numero 33 del 2020, che poneva alcuni divieti a intrattenimento, feste e cerimonie, emanata in via precauzionale in attesa dell'esito dei tamponi. Il comune di Pollica continua a non avere alcun caso covid-19. A farlo sapere è il sindaco Stefano Pisani. Su 215 tamponi effettuati durante lo screening di massa eseguito in questi giorni, i risultati sono tutti negativi. Sale quindi a 40 il numero dei contagiati nel Cilento. Sei ad Agropoli, sei a Capaccio, tre a Casalvelino, due a Centola e 23 a Pisciotta. E prima di andare in pubblicità leggiamo altre notizie. Blitz dei carabinieri del Nassi in alcune attività di ristorazione di Marina di Camerota e Palinuro. Sotto la lente di ingrandimento sette stabilimenti balneari e sette ristoranti. In alcuni casi scoperte irregolarità nei ristoranti, mentre in altri i depositi di alimenti annessi per gravi carenze igienico sanitario. I Nassi dei carabinieri antisofisticazione e sanità di Salerno hanno trovato sporcizia, assenza di adeguate operazioni di pulizia e dei requisiti minimi per svolgere la ristorazione, come l'inesistenza degli spogliatoi e dei servizi igienici per il personale. Nelle attività sequestrate centinaia di chili di alimenti privi di tracciabilità. Adesso invece a Sala Consilina una notizia di un incidente, scontro tra auto e camion, purtroppo un morto. Incidente a Sala Consilina questa mattina in località Trinità. A riportarlo il quotidiano La Città di Salerno a perdere la vita è stato un 23enne. Altre tre persone, le due ragazze che viaggiavano con lui e l'autista del furgone contro il quale ha terminato la sua corsa, sono rimasti feriti. L'impatto è avvenuto intorno alle 6 e mezza del mattino sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora da chiarire le cause del sinistro. Bene, ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria. Tra qualche minuto di nuovo in onda col Tg di Cilento Channel. Le Tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro Polifunzionale Elysium. Piscina semiolimpionica. Palestra. Centro fitness con attrezzi di ultima generazione. Pizzeria con ingredienti genuini e selezionati. Sala bar. Centro Polifunzionale Elysium. Via lento Agropoli Salerno. Info e. Elysium4u.it. Risarcimento Italia. Dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimento Italia. Via Mattine 5. Centro Le Torri. Agropoli Salerno. Villa Franca. A Domignano Scalo. Per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali. Villa Franca. Via Cerreta 27. Omignano Salerno. L'estate addosso con il gruppo Riflessi. Abbigliamento donna dai teenager alle taglie forti. Accessori, bigiotteria, pelletteria. Profumeria fornitissima delle più grandi firme. Prodotti artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia. Creme e prodotti di bellezza. Trucco Diego Dalla Palma e Luce Bezier. Idee regalo. Gruppo Riflessi. Abbigliamento e profumeria. Con ampio parcheggio esterno. Via Mattine Agropoli. Telefono 0974 83 87 66. Gruppo Riflessi. L'estate addosso. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini. È MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa Italia. Ben ritrovati. Seconda parte del nostro notiziario. Apriamo con Sassano dove è stata inaugurata dopo diversi anni di attesa la nuova aula consigliare. È stata inaugurata dopo diversi anni di attesa la nuova aula consigliare del comune di Sassano ricavata dall'ex struttura municipale mai realizzata e più nota come Ecomostro. Il taglio del nastro si è svolto oltre che alla presenza della ministra alle politiche agricoli e Teresa Bellanova anche di Vittorio Brumotti, inviato speciale di Striscia alla Notizia, che dieci anni fa, circa, si era recato sul luogo dell'Ecomostro per denunciare la presenza della struttura pericolante, fatiscente e decisamente non adeguata al contesto storico, facendosi promettere dal primo cittadino una immediata soluzione. Inaugurare una sala consigliare in un luogo che ha avuto tante traversie, come quello di cui oggi stiamo parlando, è un segnale di interesse alla gestione del bene comune. Recuperare luoghi dove si sono impegnate risorse, che sono risorse dei cittadini e poi sono stati abbandonati o non sono stati messi nella fruibilità delle persone, io credo che questo è un impegno importante che da solo parla della qualità, della buona amministrazione, del buon governo. E insieme a questo credo di dover dire che è anche un segnale di legalità, perché consumare risorse pubbliche, consumare risorse che togliamo al futuro dei nostri figli, significa alimentare anche una cultura dell'illegalità, del disprezzo del bene comune. Noi invece dobbiamo fare esattamente il contrario, è investire sulla cultura della legalità, sul recupero delle aree interne, sulla possibilità di spostare anche, di decongestionare le grandi città, invitando le persone a spostarsi ma creando anche le condizioni perché le persone possono vivere con la stessa tranquillità e con gli stessi servizi con cui vivono nel centro di una grande città è un segnale di grande maturità di una classe dirigente. Il nodo al fazzoletto, come facciamo di solito, è stato sciolto. Un plauso a chi si è impegnato e per fortuna è una bella soddisfazione anche per il nostro lavoro di striscia alla notizia far sì che queste opere incompiute, questo spreco di denaro pubblico venga restituito ai cittadini. Dunque con i suoi tempi ce l'hanno fatta. Ringraziamo allora coloro che ci hanno segnalato, che hanno detto Brumo vieni da noi perché c'è un ecomostro. Dunque il cittadino, come disse un'importantissima persona, bisogna togliere la terra dalla sabbia, tirarla su e denunciare. Denunciare che sia uno spreco di denaro pubblico, che sia una situazione di illegalità o qualcosa che magari tralasciato da una vecchia amministrazione. In questo caso non tutto il man viene per nuocere. Eccoci qua tutti insieme a fare i pipurrà per qualcosa che è stato completato. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino. Dopo anni di sofferenza, di tante situazioni, una serie di difficoltà, oggi ci siamo. Restituiamo ai cittadini e alla comunità di Sassano il luogo per l'antonomasia dei cittadini, che è l'aula consigliare. Siamo veramente contenti che oggi, con la presenza anche del ministro, quindi un rappresentante del governo, mancava da un po' di anni un ministro Sassano, possiamo finalmente inaugurare la nostra aula consigliare. Siamo veramente molto orgogliosi. Avevamo assunto un impegno qualche anno fa e oggi possiamo dire di averlo mantenuto definitivamente non solo con la riduzione dei due piani e mezzo, ma anche con l'apertura e con la restituzione alla comunità di Sassano dell'aula consigliare. E ci spostiamo in Regione Campania dopo l'ultima ordinanza del presidente Vincenzo De Luca, che prevede la carta d'identità al ristorante. Le opinioni sono divise tra i ristoratori e i cittadini. Ascoltiamo le interviste che hanno raccolto i corrispondenti da Salerno. L'adozione di misure di contenimento dell'inflezione coronavirus non fa abbassare il tasso di contagiosità, portando la Campania terza in classifica tra le regioni con l'indice RT, con un valore pari a 1,44 dopo il Veneto e la Sicilia. Dati che impongono una cautela che ancora una volta hanno portato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ad emanare una nuova ordinanza che riguarda l'obbligo per chi va al ristorante di fornire la carta d'identità, dopo che è stato verificato che in alcuni posti sono state fornite generalità false che hanno creato problemi nel ricostruire la catena dei contatti nel caso di positività. Una decisione che ha spaccato l'opinione pubblica su una misura che, se da un lato, aggiunge un ulteriore passaggio burocratico per i ristoratori, dall'altro trova anche osticità da parte degli stessi clienti che si sentono non tutelati nella privacy. Certo, questo è un ulteriore compito che grava sulle nostre spalle, però siamo disponibili sempre a usare tutti gli strumenti per evitare contagi. C'è stato un picco, abbiamo superato la Lombardia come contagi, quindi non è una cosa positiva, sono completamente d'accordo. Però questo per noi è un ulteriore onere, ci rimbocchiamo le maniche, accettiamo. Anche questo però non è semplice, si sono viste scene di aggregazione in vari luoghi che non sono i ristoranti soltanto oppure i bar, insomma ci sono tanti altri luoghi di aggregazione dove si sono visti centinaia e centinaia di persone, anche attività commerciali. Quindi noi accettiamo anche questo perché è un altro obbligo, ma certo fatto per evitare, scusatemi, il contagio. Quindi andiamo avanti. L'importante è che non si torni alla fase 1. Dallo stesso tempo si chiede però, così come ai ristoratori vengono chieste, delle attenzioni particolari, così anche agli stessi commensali, che vengano usate le stesse misure un po' ovunque. Sicuramente, prestiamo attenzione perché se vengono prese delle decisioni è perché ci sono delle problematiche precedenti, come è stato per l'asporto che ci è stato bloccato alle 22. Per quale motivo è stato bloccato l'asporto? Ci sono stati messi dei limiti orari fino a qualche tempo fa, perché qualcuno ovviamente ha trasgredito. Quindi cerchiamo di non trasgredire, così torniamo alla normalità al più presto possibile. Evitiamo che l'autunno porti tanti altri contagi. Prestiamo attenzione perché un'ulteriore chiusura potrebbe essere letale per molte attività. Il rischio in questo momento, infatti, è proprio questo. Se dovessero continuare ad aumentare i contagi, ci potrebbero essere altri provvedimenti fino ad arrivare anche ad un ulteriore lockdown. Questo io non lo posso dire perché ovviamente c'è un'unità di crisi che valuta queste cose, però si prospetta questo fantasma che per noi sarebbe veramente, come dicevo, per molti sarebbe letale. Evitiamo questo. E ad Agropoli da questa sera al via la terza edizione di Festival Incontri ideata e condotta da Vito Rizzo. Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Prima giornata dedicata al Festival della Teologia Incontri. Siamo con Vito Rizzo e adesso Vito ci spiegherà come funzionerà questa sera proprio per invitare non solo i cittadini ma anche i telespettatori che ci stanno seguendo a seguirci dal vivo ma anche in diretta eventualmente non vogliono insomma o non possano recarsi presso il centro storico dove sarà appunto realizzato il festival. Sì, allora l'appuntamento è nel Borgo Antico di Agropoli, la piazzetta della Madonna di Costantinopoli alle ore 21. Quest'oggi iniziamo con il tema della donna, quindi la donna nella promessa, quindi la professoressa Maria Rosaria Cirella ci accompagnerà in questa lettura della donna nell'Antico Testamento. Poi avremo un intermezzo musicale a cura di Amedeo Giordano e la seconda parte della serata ci sarà la videointervista fatta da Antonia Salzano, la mamma del beato Carlo Acutis, realizzata dalle ragazze dell'Azione Cattolica, quindi da Francesca, Luisa e Vera che hanno intervistato Antonia Salzano a Palinuro, quindi in occasione del conferimento del premio Incontri 2020 e quindi si sarà questa bellissima intervista fatta dalle ragazze che attraverso la voce della mamma hanno raccolto la testimonianza di Carlo Acutis, di un giovane santo, anche se al momento è semplicemente beato, ma le testimonianze di santità di Carlo stanno coinvolgendo tanti giovani in tutte le parti del mondo e quindi è una bellissima testimonianza che cercheremo di raccontare anche noi ed inaugureremo anche nell'oratorio della chiesetta della Madonna di Costantinopoli la mostra sui miracoli eucaristici che ha ideato Carlo Acutis. Bene, ci fermiamo ancora una volta, tra qualche minuto di nuovo in onda con gli ultimi servizi del telegiornale. Grazie a tutti. Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via NIT1, Agropoli-Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent, ad Agropoli, Capaccio, Castellavate. www.cilentorent.com Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Letisane di Zara, prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Letisane di Zara, info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Griff delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni. Lenti a contatto. Focus Point. Via Alcide De Gasperi 22. Agropoli Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, pavimenti e rivestimenti delle migliori marche. Vasta scelta di arredobagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia. Capaccio Scalo Salerno. Psicofisico, studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci. Pagina Facebook, studio, nutrizione e benessere. Convergenze. Internet, Fon, TV, energie. Ben ritrovati, terza parte del TG. Apriamo con Salerno. La settimana scorsa appunto in città il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali ha avuto un confronto con i cittadini. Vediamo com'è andata. Un momento di confronto sull'attività parlamentare di governo in previsione delle regionali in campagna e delle elezioni amministrative del Comune di Salerno. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle resta quello di andare a governare con forza, potenza, volontà e determinazione. Così questa mattina in via Fiera Vecchia, nei pressi dello spazio 5 Stelle, i portavoce di Salerno del Movimento, Andrea Cioffi, Nicola Provenza e Angelo Tofalo, che hanno incontrato i cittadini salernitani presentando i candidati che saranno in campo con Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza della Regione Campania della prossima competizione elettorale. Ma intanto vogliamo cogliere l'occasione per raccontare quello che il nostro lavoro sia sul piano dell'attività parlamentare ma anche per l'attività di governo, perché sicuramente il nostro impegno quotidiano è rivolto sempre all'interesse dei cittadini, ma in particolare nella peculiarità dell'attività delle singole commissioni. Io in particolare per quanto riguarda soprattutto l'attività di lavoro all'interno della Commissione Sanità della Camera dei Deputati e anche rispetto alla legge delega sullo sport che ho vissuto in prima battuta durante la fase del governo gialloverde e che adesso invece mi vede anche ai tavoli di maggioranza relativamente al testo unico che sta per essere completato e al quale stiamo lavorando. Sempre vivendo però queste politiche dello sport nell'ottica di una visione di prevenzione sanitaria, perché se questa riforma ha un senso ce l'ha proprio in questa direzione, quindi per la prima volta che l'attività di governo si porta a implementare determinate azioni che siano efficaci e possano garantire lo sport per tutti. Ma noi oggi ci ripresentiamo, come disse l'altra volta alle regionali, ci ripresentiamo da soli, perché dopo aver tentato e con un progetto allargato, aver fatto un appello di responsabilità a tutte le forze politiche, ancora una volta determinati portatori di interesse da una parte o dall'altra hanno voluto continuare su un vecchio percorso. Per cui noi ci siamo, ci siamo con forza e diremo la nostra per quanto riguarda le regionali in Campania. Questo momento ci dà anche occasione per riaggregare tante energie civiche su Salerno e abbiamo cominciato già da qualche mese a lavorare, a continuare un percorso che in realtà è iniziato tanti anni fa per appunto aggregare grandi energie per le prossime amministrative a Salerno e devo dire che con grande, forse anche lo ammetto, con grande sorpresa stiamo avendo un riscontro notevolissimo su Salerno e questo rende sicuramente una sfida interessante. L'appuntamento di oggi del Movimento 5 Stelle è stata l'occasione anche per commentare l'attuale momento della pandemia e le azioni messe in campo. Come dicevo l'emergenza non è assolutamente terminata, quindi dobbiamo tenere il livello di attenzione altissimo e seguire tutte quelle che sono le indicazioni dell'Istituto Sanitario Nazionale. Quindi l'importante è avere il livello di attenzione, lavare sempre le mani, utilizzare una mascherina e stare attento. Ecco, non deve esserci, io non utilizzerei la parola di distanziamento sociale ma distanziamento fisico, quindi ci vuole una massima attenzione e dobbiamo essere uniti nel rispetto di queste regole, quindi unità sociale nel rispetto delle regole ma massima attenzione nel distanziamento fisico. Lì dove ci sono state purtroppo, ahimè, delle criticità, dei problemi, ovviamente la magistratura, e non entro nel merito, sta facendo dovuti accertamenti nelle rispettive regioni, lì dove si sono verificate purtroppo evidenze, per cui poi seguiremo quello che sarà il lavoro della magistratura per accertare le varie responsabilità. Le ordinanze della Regione Campania pongono in un certo senso un sigillo ai comportamenti dei cittadini, ritiene che manca qualcosa? Ma purtroppo penso sia all'evidenza di tutti quanto il sistema sanitario regionale abbia avuto negli anni, abbia tutt'oggi delle grandi criticità, la linea che è stata utilizzata forse per nascondere queste mancanze è stata proprio una linea apparentemente dura, però a mio avviso chi è responsabile deve intervenire per migliorare il sistema sanitario, quindi questa è la priorità, stravolgere e migliorare totalmente il sistema sanitario regionale. Un cartellone ricco di appuntamenti organizzato dalla Proloco di Perito con il patrocinio del Comune Omonimo Musica, Cultura e Artigianato, questi gli appuntamenti che contraddistinguono l'estate del Borgo Cilentano, il tutto nella bellissima cornice di Piazza della Vittoria nel rispetto delle normative riguardanti l'emergenza Covid-19. Il programma di seguito nel cartellone ufficiale. Ora vediamo l'ultimo servizio che arriva dai nostri corrispondenti. Erano in tantissimi ieri sera nella splendida location di Piazza Castello a Montesano sulla Marcellana per la presentazione del volume Il calendario di Montesano sulla Marcellana 1996-2019. Un libro in cui sono stati raccolti tutti i calendari realizzati nei 25 anni di riferimento e che raccontano la storia, la tradizione, la vita di Montesano sulla Marcellana, spiegando i luoghi e gli aneddoti che avevano visto quegli stessi posti protagonisti. Un viaggio alla riscoperta delle radici di Montesano, che grazie alla cultura di Angelo Sica e alla voglia di mettere al servizio delle comunità i suoi studi, prima nel ruolo di preside dell'Istituto Comprensivo di Montesano e poi come presidente del Centro Studi Radici, sono stati raccontati di anno in anno nei calendari realizzati grazie anche all'aiuto e alla passione dei bambini. Calendari che dal 1996 diventano, mese dopo mese, fonte di nuova conoscenza di un territorio. I primi 25 calendari sono ora raccolti in un unico volume che diventa pregiato elemento da custodire come fonte inesauribile di storia e cultura montesanese. Sono stati davvero in tanti ieri a partecipare all'evento che è stato anche un omaggio ad un grande ricercatore storico come Angelo Sica che da insegnante e preside ha trasferito e trasferisce a bambini e adulti l'orgoglio per questa terra dalle mille bellezze e dalla lunga e inesauribile storia. Poter presentare un libro che raccoglie tutte le edizioni di questo calendario credo che è uno dei momenti più belli da un punto di vista culturale ma se vogliamo anche di riconoscimento della storia della comunità di Montesano perché diamo vita a quella che era, almeno da giovanissimo, ne parlavamo con tanti amici appassionati anche di storia, di ricerca, di divulgazione in questo territorio, quella enciclopedia della storia di Montesano che ad oggi mancava e penso che da stasera la possiamo distribuire, divulgare e diffondere ai nostri cittadini che sono certo che si riconosceranno. Siamo arrivati al momento in cui questi 25 anni sono stati raccolti in un solo testo un testo che è leggibile perché 23 per 34 e quindi è consultabile è un testo che secondo me dovrebbe essere in tutte le case, non solo dei montesanesi ma anche di tutti i valori di Diano perché è un testo fondamentale per quanto riguarda non solo la storia ma la storia orale, i miti, i rite, tradizioni, canti e così via vogliamo far conoscere come si viveva un tempo perché i ragazzi possano avere un punto di partenza. Tutte le amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni qui a Montesano hanno creduto in questa iniziativa perché di solito, diciamo la verità, nel Vallo di Diano quando cambia l'amministrazione si butta l'acqua sporca con tutto il bambino ma qui fortunatamente non è stato così e oggi raccogliamo i frutti, vediamo i frutti di questo duro lavoro. Conobbi Angelo Sica andai alla sua scuola e rimasi affascinato, incantato per quello che lui faceva e il lavoro lo trovai tanto più straordinario quanto più era proprio sconosciuto nessuno aveva idea che in questo piccolo comune della provincia si svolgesse un lavoro didattico di così altissimo profilo. Credo che sia una grande occasione per il territorio, per Montesano sia soprattutto la testimonianza di una passione civile, di una intelligenza culturale del coraggio poi di un uomo, Angelo Sica, che ha voluto fare queste e mille altre cose che tutti quanti ricordiamo con veramente grande gioia. È una cosa unica perché è fatta con qualità e non è mai scontato e perché è un esempio di passione civile. La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle ore 6 di domani mattina fino alle ore 20 della stessa giornata per piogge e temporali, un quadro meteo che viene associato a una criticità idrogeologica di colore giallo. Si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità, possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e accaduta di rami o alberi. Saranno possibili ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, quindi scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. La protezione civile della regione Campania infine raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi. Ed era questa l'ultima notizia di oggi, io vi ringrazio per averci seguito, l'appuntamento è rinnovato a una prossima edizione. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie a tutti.